A volte non ho più animi, oggi siamo tutti comodi, non ci sono più uomini, oggi vanno bene quelli come me. E che cantano dopo, dopo, e che non perdono mai. Non lo sai più se è un figlio, oppure se è successo veramente, oggi è la tv a dire che, se è una cosa è vera o se hai sognato te. E trova a dire che, che vedrai. Tu non sei, non sei più in grado neanche a ridire te, quello che hai in testa l'hai pensato te. Tu non sei, non sei nessuno, qui non esisti più, se non ne appari mai su Facebook. Ma dove sono gli uomini? Ma dove sono quelli che credevano che vivere? Non è sempre solo rispondere che, va bene com'è. Tu non sei, non sei più in grado neanche a ridire te, quello che hai in testa l'hai pensato te. Qui non sei, non sei nessuno, qui non esisti più, se non appari mai in tv. Problemi? Qui non esistono problemi. Qui siamo tutti belli e buoni, votiamo tutti Berlusconi e non c'è niente da pensare. Qui basta solo lavorare e poi guardare la tv. Qui non esistono problemi. Qui non è sempre, qui non esisti più in grado neanche a ridire te, quello che hai in testa l'hai pensato te. O-oh-oh-oh O-oh-oh-oh O-oh-oh-oh